Questo è uno dei due modelli oversize, one size, ed è caratterizzato da questo scollo a V. Ha una manica scesa, molto comoda, molto ampio come giro manica. È leggermente più grande rispetto all'altro modello, ma parliamo proprio di 1-2 cm, molto anche questo dritto, un po' ad A come modello. Ha la parte posteriore leggermente più lunga rispetto a quella anteriore, con uno spacchetto che li divide. Se si vede bene, forse mi giro da questo lato, si vede un po' meglio. Come prendere invece le misure del maglione one size? In questo caso la misura la calcoliamo sempre dall'altezza del giro, del giro gola. Qui abbiamo due differenti altezze, quindi avremo la prima che è quella della parte anteriore e la seconda che è quella della parte posteriore. La misura del petto la calcoliamo da fine manica all'altra fine manica, quindi abbiamo tutta la dimensione del petto. La manica in questo caso, dato che è una manica scesa, la andiamo a calcolare dalla base del collo fino alla fine della manica stessa, per avere la misura dell'intero braccio. La base la calcoliamo sempre nella parte finale, da lato a lato.